buongiorno a tutti allora filpettina anzi giubbino tuta di sergio tacchini da benzinaio perché dobbiamo parlare delle moto gp della moto gp gran premio d'italia al mugello cuno cuno vediamo come sono andate le qualifiche del cuno ma soprattutto chi sono i partecipanti clamorosamente alcuno partecipano anche vignales e marmarquez aless e spargarò e pirro nakagami e marini petrucce ormai rossi abbonato salvadori bastianini aless marquez e le cuona a sette minuti e mezzo dal termine del cuno il miglior tempo è di nakagami quindi bastianini aless e spargarò pirro marmarquez petrucci e vignales che si deve dare una mossa rossi è nelle retrovie tra l'altro gli hanno annullato il giro che aveva fatto gliel'hanno cancellato comunque c'è tempo c'è tempo sette minuti e mezzo stanno cambiando le gomme stanno migliorandosi eccetera quindi nei prossimi sette minuti e mezzo ci sarà da combattere incredibile vignales e marquez vanno contemporaneamente i boss ma non si fermano attraversano tutta la pillone e quindi ripartono con marquez che si mette davanti poi si rimette davanti ancora vignales perché marquez stava andando piano praticamente siccome si stanno seguendo a vicenda cosa hanno fatto senza ne avvisare né niente hanno preso se sono gettati nella corsia boss e c'era almeda che ha sclerato leggermente no così non si fa così non si fa non si può fare così eccetera 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 perché praticamente sulla curvona erano davanti si sono spostati all'improvviso tutti sulla destra per inserirsi nei boss hanno fatto tutta la via dei box sempre inseguirsi mi sembra anche che vignales gli abbia fatto il ditino a marquez mi sembra poi magari mi sbaglierò però non è parso anche che gli ha fatto un gestaccio per continuare a girarsi voglio vedere se ancora qui è sempre qui poi alla fine della corsia boss marquez l'ha superato ma poi dopo mentre stavano facendo il giro per puntare alla fine del del giro per finalmente ripartire e cercare all'ultimo di fare il tempo vignales era ancora davanti a marquez quindi continuavano a inseguirsi comunque con quasi l'ultimo giro a disponibile sono passati sul traguardo proprio a uno o due secondini dal che scattate la bandiera a scacchi marquez fa il miglior tempo e vignales il secondo miglior tempo prendendosi rispettabilmente il primo e il secondo posto però attenzione perché con l'ultimo giro disponibile il buona lei se sparga l'ho con l'apriglia fa il secondo tempo e beffa momentaneamente vignales che però deve finire il suo giro perché come vi dicevo lui ha avuto quell'attimo lo scatto per arrivare sul traguardo prima che scattasse la bandiera avete presente come quei giochini no delle macchine eccetera che avevi le standard time però avevi x tempo per arrivare in un determinato punto e ci arrivavi proprio quando stava per scattare lo 00 tacca ci arrivavi e sta in that time ecco uguale però a lei se sparga l'ho fa il secondo tempo quindi adesso c'è vignales che bisogna vedere se riuscirà con l'ultimo giro a ribèffarlo perché se no è out e vignales ce la stava facendo perché al terzo intermedio con casco rosso aveva 64 millesimi 62 64 millesimi di vantaggio però proprio sulla curva che immette alla corsia del traguardo è andato largo e infatti c'erano i suoi meccanici e tutto il gruppo Yamaha con le mani tra i capelli loro meati loro poi ci potevano farlo io ahimè ormai no e quindi il buon vignales partirà in quinta fila col tredicesimo tempo quindi alla fine del cuno i qualificati sono Mar Marquez con il miglior tempo e a lei se sbarca il giù con il secondo quindi vignales è terzo il buon bastianini è quarto e il buon maledeno rossi è solo nono e quindi partirà addirittura in settima fila no in sesta fila settima fila sì settima fila col diciannovesimo tempo ecco comunque i magnifici 12 che partecipieranno al q2 per la pole position a sette minuti e mezzo dalla fine del q2 e con tutti i peloti ai boss a fare il cambio gomme fare le piccole modifiche alla moto per cercare di migliorarsi in pole provvisoria c'è il buon quartararo davanti ad ales 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 spargaro miller e bagnaia si riparte e quartararo siccome non gli bastava no ha detto non so se uno 45 e quasi e mezzo basta facci abbassiamolo e infatti lo abbassa di quasi 300 millesimi con uno 45 187 e Remba dice che oggi comando io la pole position la voglio io ma manca però ancora almeno un altro giro per qualcuno quindi attenzione può succedere alla fine nessuno riesce a superare il super tempo del buon quartararo ma con l'ultimo giro bagnaia fa il secondo tempo e zarco il terzo relegando ales e spargaro in seconda fila ma che penso che possa essere più che soddisfatto di avere il quarto tempo in griglia ragazzoli allora andiamo a vedere questo gran premio del mugello cosa succede com'è la pole position al primo posto abbiamo quartararo bagnaia e zarco in prima fila a lei se spargaro miller e binder in seconda olivera rinz e mir in terza morbidelli mar marquez e pole spargaro in quarta vignale sbastianini e nakagami in quinta pirro marini e petrucci in sesta rossi lecone e salvadori in settima e il povero fratellino di ales marquez partirà per nell'una dall'ultima fila detto questo a parte la parlata bolognese che ogni tanto mi viene fuori il don cherubino io vi saluto vi ringrazio vedremo domani cosa succederà sicuramente se quartararo partirà bomba come è andato nelle qualifiche mi sa che non c'è gara però siccome tra qualifiche e gara c'è una differenza esponenziale almeno in moto gp penso che ci sarà parecchio da divertirsi attenzione al buon miller e attenzione ai due rinz e mir che avranno voglia di rivalsa poi naturalmente c'è il nostro buon bagnaia che può fare molto bene e poi staremo a vedere cosa farà morbidelli che parte dalla quarta fila ma il buon morbido sa sempre inserirsi alla grande comunque staremo a vedere detto questo vi saluto vi ringrazio non so quanto questo video andrà in onda io mi auguro entro la mezzanotte di questa sera perché si stanno già caricando altri due video ma in ogni caso lo avrete sicuramente prima della partenza del gran premio che sarà domani nel primo pomeriggio ciao